buon giorno sono da un chilo di queste mene grazie quanto lo devo? pagala ditta signorina grazie a sopra te li berevi a fare allora ne ho duccio come stai? bene è solo un grassio erano sopra un enduro un enduro di che tipo? kawasaki kll oppure no no proprio un kawasaki kll peccato così è più aumentativo certo e che tipo di uccello aveva sul casco? riesce ad essere più precisa? un'aquila a me mi sta chiedendo mi domando era un'aquila allora se dia una risposta lo era